Eccoci ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia che apriamo parlando di calcio e del Catania che domani tornerà in campo per il turno della campionato di Serie C. Intanto i rossazzurri hanno presentato uno dei colpi del mercato ovvero il portiere Albertoni. Ascoltiamo le sue prime dichiarazioni da calciatore del Catania ai canali ufficiali del club rossazzurro. Iniziato a conoscere la squadra, una squadra che dà ottime sensazioni perché è squadra forte perché è un bel gruppo e secondo me faremo dei buoni risultati. Sono tutti ragazzi fantastici, mi hanno messo subito nelle condizioni di poter ambientarmi subito e nel migliore dei modi. La prima volta che partecipo al girone C mi hanno sempre detto che è il girone forse piuttosto della Lega Pro e queste tre partite lo stanno dimostrando perché ogni partita è a sé, contro ottime squadre non puoi mai dare nulla per scontato. Stadio che in Serie C secondo me quasi nessuno può avere, dà una sensazione stupenda, comunque sia 14.000-14.000 abbonati non sono da tutti i giorni. Il morale sicuramente è sempre positivo perché ogni partita si può fare risultato e sono convinto che domenica andremo in campo con lo spirito giusto e tireremo fuori un risultato positivo. Notizia da Giardini Naxos dove continua a far discutere il possibile aumento della Tari, ovvero la tassa sui rifiuti. Se ne parla tanto, è un argomento che tiene banco, diverse le dichiarazioni e allora l'ex assessore e attuale consigliere comunale Giampiero Pollastri, intervistato da Mauro Romano, ha voluto replicare a quanto sentito negli ultimi giorni. L'ex assessore e attuale consigliere comunale Giampiero Pollastri, in questi giorni si sta parlando dell'aumento della Tari, ma lei che cosa ne pensa e quali sono le inesattezze che secondo lei sono state dette durante queste giornate? Di inesattezze tante se ci riferiamo alle interviste che ultimamente sono state fatte, come ad esempio l'assessore Pollastri si è dimesso, l'assessore Pollastri non si è dimesso, ha accettato la proposta del sindaco di fare un cambio della giunta visto la forte crisi politica. Poi mi è parso di capire che qualche esponente politico chiede ancora informazioni a me come assessore, ma forse si deve aggiornare e capire che oggi l'assessore non sono più io, ci sono dei riferimenti comunali che possono dare tutte le spiegazioni del caso. L'aumento della Tari, ci sarà, lei la voterà l'aumento della Tari come consigliere comunale? Allora guardi il tempo è galantuomo perché la Tari viene fuori dal PEF, il PEF è un documento che ha delle serie e rigide regole normative che vanno rispettate per la realizzazione e che riguardano esclusivamente il costo del servizio dei rifiuti, il servizio, le discariche, insomma tutta la delega dei rifiuti. L'anno scorso fui fortemente criticato perché presentai un PEF che portava un aumento di poco più di 300 mila Euro, questo aumento di poco più di 300 mila Euro l'anno scorso era dovuto all'aumento delle discariche, perché devo ricordare che la Sicilia ha un forte problema per il conferimento e spesso e volentieri, per chi non lo ricorda, i nostri rifiuti vanno non fuori provincia, non fuori regione, ma spesso vanno fuori dalla nazione. Questo ha comportato un aumento a dismisura dei costi che nel PEF dell'anno scorso era di poco più di 300 mila Euro. Chiaramente la proposta l'anno scorso pretestosamente fu non approvata perché ci contestavano il fatto che l'assessore non ascoltava il sindaco nemmeno che c'erano tante soluzioni per alleviare la città da questo momento, in realtà ribadisco anche oggi che l'impianto normativo del PEF e la distribuzione della tariffa lo dice per come si fa la legge. Detto questo però, mi perdoni Mauro, l'anno scorso la mancata approvazione ha comportato uno squilibrio, perché mancavano queste cifre. Insieme ad altri sindaci e colleghi siamo andati alla regione a fare sentire le nostre ragioni che provenivano sostanzialmente da un cattivo operato della regione stessa sulla questione delle discariche e devo dire che il Presidente accettò queste problematiche, le richieste e risolse il problema pubblicando un avviso dove i comuni che avevano subito questi aumenti, dovevano presentare entro un termine una richiesta di contributo. Giardini in Axos sotto la mia guida ha presentato l'incattamento nei tempi giusti e poi successivamente ci fu la pubblicazione e la gradatoria di chi ha ricevuto questi contributi e Giardini in Axos era stata ammessa a ricevere oltre 300 mila Euro e quindi la partita per l'anno scorso in qualche modo l'assessore insieme ad altri colleghi e ai rapporti con la regione è riuscito a equilibrarla. Cosa comporta? Perché la domanda è questo, il punto è questo, cosa comporta non approvare pretestosamente quest'anno questa proposta e nascondersi sempre dietro lo slogan a noi non abbiamo aumentato le tasse dei cittadini? Questo comporta che se la proposta non passa e il piano economico finanziario riguardante i rifiuti non viene adeguato per quello che sono i costi, questo significa che tra circa 7-8 mesi al massimo il capitolo che riguarda le spese dei rifiuti sarà pari a zero, resteranno quindi fuori l'azienda che fa il servizio, resteranno fuori le discariche e le discariche non sono soggetti obbligati a far conferire sempre il comune perché si tratta di un servizio necessario, le discariche chiudono le porte. A quel punto c'è un forte rischio che il rifiuto rimanga a terra. La cronaca partendo da Siracusa, parliamo di spaccio di sostanze stupefacenti e di un doppio intervento della Polizia di Stato che ha portato a due arresti, ovviamente si tratta di spacciatori. Agenti della squadra mobile nel corso dei servizi antidroga svolti nella zona nord della città di Siracusa hanno arrestato un uomo di 32 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli investigatori della squadra mobile Aretusea hanno effettuato a casa dell'arrestato una perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire 337 grammi di marijuana, 4 grammi di hashish, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. La vendita sul mercato illegale dello stupefacente avrebbe consentito di ricavare un importo di oltre 8.400 euro. L'arrestato, dopo le incombenze di legge e su disposizione dell'autorità giudiziaria competente, è stato posto ai domiciliari. Inoltre gli agenti del commissariato di polizia Ortigia hanno arrestato un 27enne già noto alle forze dell'ordine nella nota piazza di spaccio di via Santi Amato. Il giovane è stato sorpreso durante un controllo mentre si aggirava con fare sospetto malcelando un certo nervosismo. Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di 19 dosi di cocaina, 28 di crack, 11 di hashish e 11 dosi di marijuana, oltre alla somma di 20 euro, probabile provento dell'attività di spaccio. Dopo le incombenze di rito, il 27enne è stato condotto in carcere. Restiamo in tema, parliamo ancora di spaccio di sostanze stupefacenti. Ci spostiamo però da Siracusa a Ispica, nel Ragusano. Qui i carabinieri hanno invece denunciato due giovani. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Altra giornata dedicata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella periferia di Ispica per i carabinieri della compagnia di Modica, coadiuvati dai colleghi del nucleo cinofili di Nicolosi. Gli operanti hanno proceduto a deferire in stato di libertà due giovani del posto, rispettivamente un 24enne e un 19enne, entrambi disoccupati, trovati in possesso di sostanze stupefacenti di varia tipologia. Il 24enne, sottoposto a un'accurata perquisizione domiciliare, è risultato in possesso di due piantine in vaso di marijuana per un totale di 86 grammi e di 6 grammi di hashish, sostanza già suddivisa in dosi e pronta per essere venduta. Il 19enne, invece, senza pregiudizi penali, è risultato in possesso di un panetto di hashish di circa 70 grammi e 6 dosi già confezionate e pronte per la cessione. Inoltre, nella camera da letto del giovane, sono stati ritrovati un bilancino di precisione e vario materiale utile al confezionamento della droga, oltre alla somma di 110 euro in banconote di piccolo taglio, provento dell'attività di spaccio. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro da parte dei carabinieri. Torniamo nel Siracusano, in questo caso la notizia arriva da Floridia, parliamo di furti all'interno di istituti scolastici della città di Floridia. Un 29enne è stato beccato dai carabinieri e ovviamente arrestato. Vediamo il servizio. I carabinieri della tenenza di Floridia hanno tratto in arresto un 29enne per furto aggravato. I militari dell'arma sono intervenuti presso il liceo scientifico Leonardo da Vinci di Floridia a seguito di una segnalazione di intrusione pervenuta all'istituto di vigilanza privata e hanno bloccato il giovane mentre tentava di allontanarsi con la refurtiva in sella a un ciclomotore. Tutti gli oggetti rubati, in parte sottratti anche all'istituto comprensivo Salvatore Quasimodo di Floridia, sono stati restituiti ai dirigenti dei due plessi scolastici. Il ciclomotore utilizzato per commettere il reato è stato sequestrato anche perché privo di assicurazione, mentre la 29enne, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari presso la sua abitazione, così come disposto dall'autorità giudiziaria a Retusea. La Polizia di Stato ha invece effettuato dei controlli a Catania e sono scattate denunce ma anche sequestri. Vediamo perché nel servizio. Personale delle volanti, nel corso degli ordinari servizi di controllo del territorio, ha indagato in stato di libertà numerose persone, operando nel contempo diversi sequestri. In particolare, poco prima della mezzanotte, in viale Mario Rapisardi, le volanti hanno sorpreso uno spacciatore che stava cedendo una dose di droga a una persona. Alla vista della Polizia, il pusher è immediatamente scappato, facendo perdere le proprie tracce. La droga però è stata recuperata dall'equipaggio, che ha pure fermato l'assuntore, il quale, in seguito, è stato segnalato alla Prefettura. Gli agenti hanno sequestrato 37 buste contenenti complessivamente 49 grammi di cocaina, 310 grammi di marijuana e 20 di hashish. Durante la perlustrazione delle vie del quartiere Montepo, gli uomini delle volanti hanno poi sorpreso due uomini che stavano smantellando due motocicli rubati. Entrambi sono stati condotti in questura e denunciati in stato di libertà per il reato di ricettazione. Nel corso della notte, gli agenti hanno denunciato una cittadina bulgara per furto e tentata estorsione. Mentre perlustravano le vie del quartiere San Berillo, i poliziotti sono stati fermati da un uomo che aveva riconosciuto una donna, la quale, il giorno precedente, gli aveva sottratto il telefono cellulare. La donna è stata immediatamente raggiunta dai poliziotti che l'hanno condotta in questura per indagarla per furto. E proprio negli uffici delle volanti si è realizzato il secondo reato. La straniera, infatti, pretendeva dall'uomo la somma di 10 euro per la restituzione dello smartphone. L'episodio, però, non è sfuggito agli agenti che l'hanno indagata anche per tentata estorsione. Durante un posto di controllo effettuato in Piazza Europa, infine, la polizia ha fermato per un controllo una vettura il cui conducente stava guidando con un tasso alcolemico ben al di sopra del limite consentito. Per tale motivo, l'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica. Ladri in azione a Palermo, nello specifico per furti di autovetture, ma anche di oggetti a bordo di autoparcheggiate. Sono due le persone tratte in arresto dai carabinieri a Palermo in due distinti interventi, ma per tutti i dettagli vediamo il servizio. I carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno arrestato due persone accusate di furto. La stazione Palermo Resuttana Colli ha tratto in arresto per tentato furto aggravato un trentenne palermitano, già noto alle forze dell'ordine, sorpreso mentre si stava impossessando degli oggetti presenti nell'abitacolo di un'autovettura parcheggiata nei pressi di Viale Strasburgo, auto che aveva appena forzato con un grosso cacciavite. Nel quartiere Borgo Nuovo, invece, con la stessa accusa, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno tratto in arresto un minorenne palermitano e già noto alle forze dell'ordine, il quale stava tentando di rubare un'utilitaria. Il giovane, alla vista dei militari dell'arma, ha cercato di darsi alla fuga ma è stato inseguito e fermato poche centinaia di metri dopo. Gli arresti sono stati convalidati dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo. Ci fermiamo qui ma ci ritroviamo più tardi per una nuova edizione di Spazio Notizia. Grazie.